Non si può vivere in questo modo, uno sta qui per lavorare e si lavora veramente e dispiace quando succedono queste vicende raccapriccianti. No, non era mai accaduto, mai, sono state fatte tante feste e quindi alla fine non vedo qual è il senso. Voglio dire che di mettere fine a questo scempio, questi giovani, purtroppo oggi devo dirlo, non si divertono, i giovani oggi non si divertono, i giovani oggi vogliono morire e fanno morire. E cosa manca secondo lei? Manca più controlli, ma non da parte dei titolari di queste situazioni, mancano proprio i controlli, i controlli in generale. Sì, sì, penso di sì, come sempre. La signora non era mai accaduto? No, non era mai accaduto, assolutamente no, mai, mai, lo posso garantire. È malissimo, perché io sono venuta per trovare qui mio fratello, insomma, per vedere come sta, perché poi chiaramente la famiglia si unisce a questo tipo di problematiche, insomma, condizioni, situazioni, e che bisogna purtroppo affrontare anche questo.